Nel video 34 abbiamo visto come nel 1339 due fratelli, Lucchino e Giovanni Visconti, divennero insieme signori di Milano. Nel 1354, dopo la morte di Giovanni Visconti, ci fu un avvenimento molto simile. Tre fratelli, Matteo, Galeazzo e Bernabò, presero il potere della città e dello Stato. I tre fratelli erano indubbiamente adatti a gestire il potere in quei tempi, dove i capi politici mostravano un'alta propensione per il tradimento, i cambi di fazione, il disseminare sospetti. Già pare si fossero distinti nel sostenere la congiura di Francesco Pusterla, di cui abbiamo parlato nei video precedenti, contro lo zio, Lucchino Visconti, allora signore di Milano, ma non furono trovate evidenti prove contro di loro. Ci riprovarono a prendere il potere nel 1342, ai danni questa volta degli zii Lucchino e Giovanni. Scoperti, fuggirono chi nel Monferrato, chi nelle Fiandre. Tornati a Milano, alla morte di Lucchino, l'arcivescovo Giovanni li fece sposare con ragazze delle famiglie che controllavano gli stati più importanti, confinanti con Milano. Matteo infatti sposò Gigliola Gonzaga di Mantova, Galeazzo sposò Bianca di Savoia e Bernabò convolò a nozze con Beatrice Regina della Scala di Verona. Morto Giovanni Visconti, i tre fratelli si spartirono il controllo dei territori soggetti allo stato di Milano, in funzione del casato delle rispettive mogli. Matteo, sposato con una Gonzaga di Mantova, prese il controllo delle attuali province di Lodi, Parma, Piacenza e Bologna. Galeazzo, sposato con una ragazza di casa Savoia, prese il potere sulle attuali province di Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Verbania, Como e Pavia. Bernabò, sposato con una Veronese, sulle province odierne di Bergamo, Brescia e Cremona. Milano con il suo contado, ossia Milano, Monza, Lecco e Varese, furono invece controllati dai tre fratelli, dividendosi città e territorio in tre parti uguali. Curiosamente anche Genova, da poco conquistata, fu divisa in tre parti uguali tra di loro. Durò poco però, perché la città si rese presto indipendente. Dei tre, Matteo pare fosse il più inadatto a governare. Un esempio? Bologna a un certo punto si ribellò al dominio Visconteo. Mentre Bernabò e Galeazzo puntavano a una punizione militare, Matteo dal canto suo sembrava del tutto disinteressato. I due fratelli lo fecero avvelenare nel 1355, al ritorno da una battuta di caccia a Monza. Matteo spirò nel suo castello, a Saronno. Bernabò e Galeazzo si divisero tra loro il territorio controllato dal fratello appena assassinato. La vita di Galeazzo e Bernabò trascorreva tra continue guerre, senza alcuna prospettiva di pace e duratura. Tantissimi motivi. Soprattutto il Papa cercava di indebolire la forza dei Visconti. Campagne anti-Viscontee, vere e proprie crociate, furono combattute tra il 1356 e il 1362 con Innocenzo VI, tra il 1363 e il 1370 con Urbano V e tra il 1371 e il 1378 con Gregorio XI. Gli eserciti papali e dei suoi alleati guelfi erano però costituiti da mercenari provenienti dall'Inghilterra, Francia, Germania, Borgoglia, Fiandre e da molti stati italiani. I due fratelli avevano indubbiamente personalità forti, forse anche più violente della media dell'epoca, sicuramente consapevoli della loro importanza nel quadro internazionale. Lo dimostrano i matrimoni dei figli di Galeazzo. Gian Galeazzo e Visconti sposò la sorella del re di Francia, Isabella di Valois, e per procedere al matrimonio i Visconti donavano al re di Francia ben mezzo milione di fiorini d'oro, una cifra pazzesca, ma che evidentemente sapevano di avere. Invece, la figlia Violante fu data in sposa ad un figlio del re d'Inghilterra. In questo caso Violante portò con sé ben duecentomila fiorini d'oro. Ma da dove venivano tutti questi soldi? Sicuramente un po' dalle tasse, grazie anche a leggi comunali e all'avanguardia, ma anche dai saccheggi delle città nemiche, ma soprattutto dai beni della Chiesa, che erano a Milano, e che i Visconti non si facevano scrupolo ad incamerare in caso di bisogno. Ecco perché il Papa ce l'aveva su con loro, ma d'altra parte erano scomunicati, perché avrebbero dovuto avere degli scrupoli nei confronti dei beni ecclesiastici. C'è da dire che non sempre accadevano grandi sconti campali, anzi, spesso si trattava di sortite o di lunghi attraversamenti di un territorio con lo scopo di fiaccare, distruggere i beni delle famiglie nemiche, spezzarne le resistenze. Le tristi eredità di questi eserciti, a volte raffazzonati, a volte più organizzati, furono violenze sugli abitanti e saccheggi o attacchi diretti a cascine e stalle con lo scopo di far bottino. D'altra parte, quali motivo avevano i fanti di partecipare ad una battaglia col rischio di essere sbudellati. E d'altra parte, un'altra conseguenza di questi eserciti fu la peste. Non è che le condizioni igieniche di questi gruppi di persone fossero proprio ottime, fu proprio un esercito mercenario inglese, forte di circa 10.000 persone, assoldato nel 1361 dal Marchese del Monferrato, per devastare le campagne di Novara, a portare la peste a Milano. Curiosamente, la grande peste nera del 1348, ricordata dal Boccaccio nel suo Decamerone, fece pochissime vittime a Milano, per le misure di contenimento adottate da Lucchino Visconti. Ma questa volta la peste arrivò violenta in città, uccidendo oltre un terzo degli abitanti ed imperversando per oltre sei mesi. Passata la peste, tuttavia Milano continuava ad essere una città densamente abitata. Si calcola che dopo la peste vi fossero ancora centomila persone. Per avere una misura negli stessi anni dopo la peste, Napoli, Roma e Bologna contavano 30.000 abitanti, Firenze 35.000, Genova 50.000, la metà di Milano, Venezia 80.000. In Europa Milano era grande come Costantinopoli, città pure con 100.000 abitanti, mentre Londra era piccolissima, contava soltanto 40.000 abitanti. E Parigi? Beh, Parigi era la più grande in Europa, ancora 275.000 abitanti. Peste o no, appena terminata questa catastrofe sanitaria si ripresero le solite operazioni militari, i soliti assedi, i soliti tradimenti. E questo la dice molto lunga sulla concezione che si aveva della morte, sull'aspettativa di vita della gente, sull'idea stessa di al di là. Già dopo pochi mesi, dopo la cessata epidemia, Bernabò inviò degli eserciti nel Bresciano. Insomma, da punto di vista dei rapporti tra gli stati italiani, la vita proseguiva, senza alcun segno evidente di un cambiamento. cambiò però la vita delle persone. Da una parte la peste obbligò a un ripensamento religioso e filosofico un maggiore pessimismo. Il fiorire di confraternite dedicate alla buona morte, alla flagellazione e alla mortificazione del corpo, la concezione che il giudizio di Dio fosse sempre severo. D'altra parte, la diminuzione di persone permise un decremento, almeno in parte, della densità degli abitanti, una minore pressione ambientale all'interno delle città. L'abbandono di edifici di bassa qualità o di terreni scassamente produttivi. Ancora nel 1400, 40 anni dopo i fatti che vi raccontiamo, a Mondonico di Olgiate e Molgora, erano ancora segnalati edifici abbandonati, con tetti di paglia crollati. L'esistenza di edifici crollati e lasciati alla desolazione, in un'epoca dove tutto era prezioso, è sicuramente segno dell'abbandono dovuto a una diminuzione demografica, fosse dovuto a peste o a una guerra. La peste però fece creare nuovi spazi di lavoro perché servivano nuovi artigiani, nuovi commercianti, nuovi contadini, nuovi amministratori, nuovi pescatori. Insomma, le corporazioni furono costrette a reclutare nuovi membri e alcune famiglie iniziavano proprio allora la loro scalata sociale verso la nobiltà. Nel prossimo video ritorneremo sulle battaglie di Bernabò e Galeazzo Visconti che coinvolsero in pieno la nostra zona brianzola, fino alla distruzione dell'abbazia di Pontida. Arrivederci dal Bruco.